Chiedete like in maniera creativa Regà, se questo video raggiunge 1000 like, intervista tripla con il Divino Ma, direi che ha detto tutto Charizard, non c'è più nulla da dire Allora, visto che sono lo sfigato di questi starter, vi dico che a 1500 like faccio la stessa cosa che ha detto Charizard, ma la faccio meglio Prima di iniziare con l'intervista, un messaggio molto importante da dirvi ragazzi Infatti, incaricato dal Divino, sono qui a dirvi che quest'oggi su Instagram ci sarà la finale della Divino's Cup Che è la coppa in onore di merda signori Quindi, andate mi raccomando a seguirmi su Instagram se ancora non lo avete fatto Perché verso le 3 ci sarà la stories con le votazioni, la sfida è tra Armin e John Frog Mi raccomando ragazzi, andatemi a seguire su Instagram, è importantissimo soprattutto adesso Tra l'altro stiamo per raggiungere i 500 follower, quindi sarebbe veramente il top raggiungerli Inoltre vi invito a lasciare un mi piace, so che potrei essere monotono ma ragazzi ultimamente YouTube sta veramente uccidendo tutti gli YouTuber E quindi sostenetemi e sosteneteci lasciando dei bei mi piace e rimanendo comunque attivi per far fronte a questa piaga dei feed Detto già ragazzi, vi ricordo che quello che dico nell'intervista ovviamente sono cose ironiche E che ragazzi, al microfono per le domande abbiamo un ospite molto ma molto speciale e che ho citato pochi minuti fa Vi lascio al video Nome Chorizard Blast Toys Venusaur Tipo Fuoco Acqua Erba veleno, non lo sapevo fino all'altro ieri Cos'hai pensato quando hai incontrato loro due? Beh ho pensato che li avrei sconfitti e trampi tanto al tipo volante contro Venusaur Beh ho pensato che Venusaur me l'avrebbe messo potentemente nel culo Beh ho pensato che avrei sicuramente perso però forse contro Blast Toys una speranza ce l'avrei avuta insomma Un pregio ed un difetto degli altri ospiti? Allora il pregio di Blast Toys è che c'ha i cannoni, che sono fighi, se li fuma e non è mai strafatto Mentre il pregio di Venusaur potrebbe essere che non ha pregio e quindi non è come me Come difetto beh Blast Toys è una tartaruga, nel 2018 non vanno più di moda le tartarughe Mentre Venusaur come pregio è un fiore, quando mi annoio posso bruciarlo Ma un pregio di Charizard è che sa volare, io non sono capace Mentre un pregio di Venusaur potrebbe essere che è di tipo erba Ragazzo valla a fumare tu tutta quell'erba con i miei cannoni Un difetto invece di Charizard è che purtroppo c'ha la fiammella su quella cazzo di coda E ogni volta che uno ci passa sopra muore, non se ne può più Char Un difetto di Venusaur? Ma un difetto di Venusaur è che ogni tanto anche lui c'ha le liane e ci inciampa chiunque Allora, il pregio di Charizard è che è bello figo, a differenza mia Mentre il pregio di Blastoise è che anche lui è figo, a differenza mia Il difetto di Charizard è che è troppo figo, un difetto di Blastoise è che comunque lo scelgono più di me Dove abitate? Abito felicemente a Biancavilla Abito a Biancavilla Abito a Biancavilla anche se non si direbbe Racconta della tua prima volta, come viaggio intendo Ma la mia prima volta ero con un allenatore si chiamava Rosso Sono diventato campione della Lega La mia prima volta come viaggio è stata con un allenatore che si chiamava Gary Quercia E purtroppo ci hanno sconfitto subito la Lega E hanno sconfitto quel coglione di Rosso Viaggio non so cosa sia Chi è stato il tuo primo allenatore? Il mio primo allenatore è stato Red Il mio primo allenatore si è stato Gary Allenatore no, no mai, zero, non l'ho mai mangiato Hai mai fumato? Io fumo sempre dalla coda, questo è un mio problema Io con sti cannoni fumo tutti i giorni Ah con quest'erba qua io fumo ogni giorno Sì sì, tutti i giorni fumo Cosa diresti alla Game Freak in questo momento? Come cazzo avete potuto pensare che io non potessi usare volo? Ma alla Game Freak direi che se posso aggiungermi un quarto cannone alla mega mi farebbero un piacere Per piacere fatemi una mega diversa perché sono identico Già non mi sceglie nessuno Se poi fate sti obrobri qua figurati neanche Professor Rock mi sceglie Descrivete il Professor Rock con una parola Vecchio come la morte Professor Rock con una parola Sexy Ti prego portami via Chi vi sta sul cazzo nel mondo Pokémon? A me sta particolarmente sul cazzo Mewtwo Mi ricordo che in Origins ci ho tirato di quelle botte da Orbi Tutti gli altri Pokémon tartaruga Sono solo degli impostori Mi stanno sul cazzo tutti gli starter di sto mondo Perché nessuno li sceglie Il vostro Pokémon preferito? Il mio Pokémon preferito è Charizard Pokémon preferito è Charizard Il Pokémon preferito è Charizard Mi brucia se non lo dico Che preferite della Triade? Occhio alla vostra risposta Il Divino ovviamente Della Triade ovviamente preferisco il Divino Non mi sta minacciando aiuto Della Triade preferisco il Divino Però seriamente non come loro due che sono due mercenari di merda Ora Chi di voi è il più forte? Io Charizard Charizard Il più simpatico? Io Charizard Charizard Il più arrogante? Io Charizard Charizard Quello più scelto dagli allenatori? Io Charizard Charizard Se aveste un canale YouTube Quanti iscritti avreste? Ma come minimo direi almeno 500.000 Ehm, penso boh, 20.000 Ehm, credo due perché nessuno mi sceglie Cos'hai pensato la prima volta che ti sei evoluto? Credo di aver pensato, ma dove sono gli ali che mi hanno promesso? Boh, ho pensato di essere diventato una tartaruga un po' più grande, niente di che Ho pensato di poter fare del giardinaggio col mio fiora La bombi o la passi? Hawk Sì, sì lo bombo Piango Bene ragazzi, io spero che questa intervista vi sia piaciuta Se è così vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace Un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti Mi raccomando ragazzi, passate da Instagram per la DivinoScap Questo pomeriggio alle 3 Fondamentale, avete tempo per votare fino alle 3 del giorno dopo Quindi non perdetevi questa occasione Mi raccomando inoltre di premere la campanella Che anche se non c'era l'intro è fondamentale Ovviamente al microfono non l'ho specificato ma mi sembrava ovvio che ci fosse il dio di questo canale E nulla, detto ciao ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video